ANSA, Falmouth, 10 giugno i leader del G7 si impegneranno a distribuire un miliardo di dosi di vaccini anti-Covid ai paesi poveri in occasione del summit che si apre oggi in Cornovaglia. Lo ha annunciato il governo britannico che presiede il vertice. L'obiettivo è porre fine alla pandemia, nel 2022, ha riferito Downing Street in un comunicato, precisando che Londra donerà 100 milioni di dosi. Gli USA si sono già impegnati a fornire 500 milioni di vaccini che fanno parte del totale di un miliardo dell'intero G7. ANSA Gli USA si sono impegnati a fornire 500 milioni di vaccini che fanno parte del totale Gli USA si sono impegnati a fornire 500 milioni di vaccini che fanno parte del totale Gli USA si sono impegnati a fornire 500 milioni di vaccini che fanno parte del totale